Proviamo Cross Bomber, una homebrew per Sega Master System, priva di sonoro. È un videogioco già trattato nei miei speciali le prove sgangherate, ho deciso di dedicargli un video. Noi siamo quell'aereo azzurro in alto che va sempre da sinistra verso destra. Possiamo lanciare delle bombe per radere al suolo dei palazzi, credo che siano palazzi. E possiamo lanciarne soltanto una per volta, cioè per lanciarne un'altra dobbiamo aspettare che quella che abbiamo sganciato prima abbia toccato terra. Lo scopo è riuscire a radere al suolo tutti i palazzi prima che l'aereo arrivi alla quota più bassa, perché vedete che continua a scendere. È veramente un videogioco molto semplice, tecnicamente ai minimi livelli, però è più bello di quello che sembra, almeno a me non dispiace affatto. Nella prova ho registrato due partite, poi il video termina. In descrizione trovate il link per scaricarlo. Grazie per la visione. Grazie. 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 Grazie.